Medici e infermieri all'ospedale di Rovereto, specificamente nel reparto del pronto soccorso, sono troppo pochi e in sofferenza. Denunciarono gli stessi operatori del nosocomio, supportati dal consigliere provinciale a 5 Stelle, Filippo De Gasperi. Ci stiamo muovendo, risponde l'azienda sanitaria, ma trovare medici non è facile, il servizio. Prima il primario, poi gli infermieri. È lo stesso personale del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto a lanciare l'allarme con due distinte lettere inviate all'azienda sanitaria Trentina. I medici sono troppo pochi e gli infermieri in difficoltà per l'arrivo di nuovo personale e la contemporanea partenza dei più esperti. Situazione che non permette la sicurezza di personale e utenti. A farsi portavoce della difficile situazione, il consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle, Filippo De Gasperi. A Rovereto, prendendo riferimenti medici, risultano in organico 11 medici. A Trento sono più del doppio, perché sono 27 più il direttore. Secondo quello che ci spiega il primario attraverso la sua segnalazione all'azienda sanitaria, a Rovereto ne servirebbero almeno 16. Per quanto riguarda gli infermieri, la denuncia che viene fatta è che tutta l'attività di formazione del personale portata avanti in questo periodo dal personale del pronto socorso di Rovereto si è rivelata vana, perché chi è transitato da lì poi è stato destinato ad altri reparti. Non dico che provincia e azienda sanitaria non abbiano fatto nulla, dice De Gasperi, ma la situazione è stata sottovalutata e secondo il consigliere provinciale a 5 Stelle, il trasferimento di due medici al carcere di Trento e non in qualche ospedale che ha bisogno di camici bianchi lo dimostra. Recentemente si è mosso anche il comune di Rovereto e l'azienda sanitaria dice di essere a conoscenza della situazione difficile. Abbiamo ben presente la situazione del pronto soccorso di Rovereto su cui stiamo lavorando sia per reperimento del personale medico sia per la formazione più rapida possibile delle nuove introduzioni del personale infermieristico. Su questo ci stiamo lavorando, è chiaro che in situazioni di particolare picco alcune difficoltà si sentono di più. Le procedure di reclutamento sono in atto, ha detto ancora Dario, ma le difficoltà nel trovare medici sono note a tutti.